eccoci qua cari amici marvinturi in abruzzo oggi 9 giugno del 2021 portiamo a casa questa traccia di sfumatura di un veicolo chiaramente fuori produzione questo renault express lo mettiamo così in memoria ecco qua sono un po quei veicoli che insomma è sempre più difficile trovare al nord è una mia città di sicuro non lo trovi più un veicolo del genere per cui lo metto qua in memoria eccolo qua veicolo furgoncino da battaglia un veicolo che poi è stato sostituito dalla Renault Kangoo e anche questo cari amici va in memoria bellissimo Renault eccolo qua appassionati appassionati di veicoli fuori produzione anche questo è andato in memoria nel marvinturi ragazzi con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti siamo lanciano chiaramente alla prossima ciao a tutti da lanciano abruzzo eccoci qua cari amici breve sfumatura di auto dimenticata questo è un po il marvinturi in abruzzo eccola qua una mini dimenticata qua e niente ragazzi anche questa la mettiamo in memoria eccola qua una my fire eccola qua appassionati di mini eccola qua mini dimenticata questa mini cooper va in memoria anche questa guardate qua al frontale non si vede neanche eccola qua appassionati vi saluto alla prossima tutto viene registrato nel marvinturi eccoci qua carissimi amici appassionati appassionati di veicoli vintage appassionati di auto storiche vi do così una sfumatura qua ancora di deposito quali rimessa di pullman e corriere eccetera eccetera e vi faccio vedere appunto dato che si parlava di vecchi auto faccio vedere lì guardate qua una fiat 127 appunto che è qua in sosta al deposito e penso che appartenga al bravissimo alfonso di fonzo che è praticamente colui che gestisce il deposito qua dei trasporti e oltre grande collezionista ma passiamo onore a questa fiat 127 prima serie qua con la griglia nido di api come piace a me a vederla così è una fiat insomma ha il colore un po sbiadito insomma un'auto da battaglia ecco probabilmente viene utilizzata per per recarsi così al lavoro che bello anche questo poter dire prendo l'auto storica per recarmi al lavoro eccola qua fiat 127 per gli appassionati delle fiat 127 un bel prima serie come piace a me anche se il mio colore preferito della fiat 127 prima serie che sarebbe colore arancio mattone o aragosta però mi piace mi piace perché comunque è un'auto insomma che nonostante qualche traccia di luggine qualche segno del tempo sempre ecco anche questo è un marventure portare a casa qualsiasi cosa ecco qua fiat 127 insomma la vera auto qua degli italiani della classe operata degli anni 70 eccola qua ragazzi vi saluto e saluto max saluto un po tutti gli amici del canale quelli che amano le auto storiche da ulisse a roberto gialdi a manu da tanato a manu da come si dice da da torino e un po tutti quanti quelli che commentano ecco ragazzi io ve l'ho fatta vedere spettacolo viva il marventure eccola qua fiat 127 con il suo bel blu sbiadito ma c'è ringrazio ancora una volta il bravissimo alfonso faccio onore a lui spettacolo ciao a tutti viva il marventure in abruzzo saluto diego lo stimolatore il motivatore ciao a tutti spettacolo